Ciao sono Antonio imprenditore digitale e in questo video vediamo come possiamo andare a guadagnare con TikTok usando l'affiliate marketing di Amazon quindi cerchiamo in maniera più pratica di capire come effettivamente si può fare questo allora sono qui per farvi l'esempio su uno degli account che fa questa metodologia qui per andare a guadagnare che tra l'altro per quanto riguarda per esempio il mercato italiano è un qualcosa che fanno veramente in pochi, quasi nessuno quindi c'è meno competizione ed è più facile quindi emergere facendo questo metodo qui quindi praticamente che cosa si va a fare? Si va a creare un account TikTok poi c'è chi si fa vedere in prima persona e c'è chi non si fa vedere quindi il metodo si può usare in ambe due i modi quindi in questo caso ovviamente questa persona, questo utente si fa vedere nei video e mostra determinati prodotti che possono essere per esempio prodotti che si hanno a casa così da fare il video facilmente, deve essere chiaramente un video accattivante in qualche modo mostrare magari una caratteristica particolare di quel prodotto in modo tale da più facilmente far fare tante visite a quel determinato video perché sappiamo che l'algoritmo di TikTok va a premiare i video anche se si parte da zero followers quindi questa è la cosa ottimale per quanto riguarda insomma TikTok però chiaramente devono essere dei video che hanno un qualche interesse suscitato quindi le persone poi metteranno mi piace, lo aggiungeranno ai preferiti andranno a vedere effettivamente il video dall'inizio alla fine se c'è un motivo dietro, se appunto ha senso per loro continuare a vedere il video quindi capito questo uno può sapere insomma come realizzare il video di conseguenza quindi ci sono poi anche determinate cose da tenere in considerazione come può essere l'orario di pubblicazione, come può essere anche la durata del video che di solito comunque non deve essere superiore ai 50 secondi direi poi ci sono in realtà anche dei video che possono durare anche oltre il minuto che vanno bene però nella stragrande maggioranza dei casi per far vedere insomma quantomeno una caratteristica di un prodotto ci vuole anche ben poco quindi un video che dura dai 5 ai 30 secondi insomma 5 magari troppo poco dai anche 7-8 secondi 30 secondi già può avere senso andare a pubblicare poi il video di conseguenza e quindi si può partire da prodotti che si hanno a casa oppure volendo si può fare il video con l'intelligenza artificiale se si ha idea di che cosa andare a dire nel video per suscitare interesse ci si può aiutare anche per esempio con chat gpt per creare lo script del video oppure ancora un'altra cosa che si può fare è proprio quella di andare ad usare per esempio dei video che si possono andare ovviamente a riusare quindi per esempio in licenza creative commons che per esempio appunto non sono protetti da copyright ovviamente in quel caso va bene per appunto poi poter andare a sistemare quel video e andarlo poi a pubblicare di conseguenza ma tornando a noi per quanto riguarda questo metodo che cosa si deve fare? una volta che si ha il video pronto appunto lo si pubblica si cerca di far conoscere quel prodotto insomma in qualche modo e quindi poi ci vai a guadagnare perché intanto ti iscrivi al programma di affiliazione di Amazon e poi puoi andare o a mettere un link affiliato specifico se ovviamente vai a promuovere magari un prodotto solo si può mettere qui nel link in bio di tiktok quel determinato link affiliato tranquillamente però puoi metterlo soltanto una volta che hai raggiunto almeno 10.000 followers quindi comunque devi andare a realizzare dei video prima per poter fare questo e all'inizio insomma se non si hanno almeno 10.000 followers si può comunque portare del traffico per esempio ad un nostro sito che poi promuove appunto determinati link affiliati e in questo caso lo si fa sempre promuovendo il sito o scrivendolo nei commenti oppure ancora anche nella descrizione del video oppure dentro il video scrivendolo proprio dove le persone possono approdare per poi trovare quel prodotto se sono interessate all'acquisto però ovviamente quello che poi converte di più funziona di più è quando si può mettere il link in bio superati i propri 10.000 followers in questo caso quest'utente sta usando una procedura che riguarda Linktree quindi esiste questo sito che si chiama linktr.ee che appunto accedendoci ci permette poi di avere accesso a vari link in questo caso di determinate cose che quest'utente va a vendere in qualche modo quindi ci sono i suoi outfit, ci sono appunto jeans, ci sono poi link dei suoi social ma c'è anche come primo link il suo storefront di Amazon quindi insomma la sua pagina che è una pagina che viene automaticamente generata quando diventi insomma parte del programma affiliazione di Amazon quindi poi accedendo a questa pagina si vede proprio la sua pagina del negozio insomma adesso non la apro perché magari non lo so non vuole che si vada ad aprire magari in un video magari mi può fare problemi quindi evito però appunto che cosa succede? succede che si vedono tutti i prodotti che la persona sta promuovendo e si vede appunto che come appunto si può trovare quel determinato prodotto su Amazon quindi le persone poi lo possono andare ad acquistare facilmente perché accedono proprio ad Amazon tramite lui e quindi accedendo tramite lui Amazon conferisce a quella persona le commissioni derivanti dalle vendite che appunto lui ha portato quindi se la persona una volta che approda sul suo in questo caso storefront oppure approda sul link affiliato se uno lo mette specifico poi se entro 24 ore la persona acquista quel prodotto allora poi effettivamente Amazon ti dà la commissione di riferimento che poi può essere dell'1%, del 3%, del 5% e così via a seconda della categoria merceologica a cui fai riferimento e quindi la cosa consigliata è di andare a promuovere dei prodotti dall'alto costo in modo tale proprio da avere comunque un guadagno abbastanza buono quindi se uno vende console di videogiochi se uno vende insomma determinati prodotti anche legati a macchine da caffè a prodotti per l'allenamento a casa penso a tapirulan e cose di questo tipo che sono appunto molto costose allora si può guadagnare di più poi ci sono anche prodotti costosi che sono appunto piccolini possono essere ovviamente cellulari, tablet e così via quindi giusto per farvi degli esempi anche pc assemblati eccetera eccetera ma si possono anche vendere appunto prodotti dal costo molto basso però in quel caso avremo una commissione più bassa quindi questo è semplicemente un esempio insomma una cosa che io vi posso consigliare se volete guadagnare di più da ogni vendita però tenete in considerazione che vendere un prodotto che chiaramente costa di più è più difficile ci possono volere più click, più persone che poi vanno effettivamente a vedere il video e quindi anche il vostro link di riferimento però comunque di solito è meglio appunto basarsi su prodotti che non sono veramente troppo cheap, troppo economici quanto meno insomma dai 50 euro in su già secondo me può aver senso quindi se volete poi approfondire tutto questo se volete capire come vendere online tramite l'affiliazione quindi come andare a fare affiliate marketing nella maniera corretta sia di prodotti legati ad Amazon sia in realtà anche a molto altro potete accedere ad Affiliate Machine che è il mio percorso di formazione che trovate come sempre qui sotto in descrizione e quindi così potete capire bene cosa consiste il corso e poi se vi può interessare potete fare accesso così da capire proprio come andare ad attuare la metodologia di vendita in affiliazione che vi va a togliere insomma un sacco di problemi perché dovete soltanto sponsorizzare i prodotti giusti nel giusto modo per trovare clienti senza quindi poi dover fare spedizioni o altro quindi un metodo poi che vi va a togliere tante problematiche e vi va a semplificare il processo di guadagno online a tutti gli effetti quindi secondo me anche è una buona metodologia proprio per chi parte da zero e non vuole avere troppi problemi quindi detto questo potete lasciarmi un mi piace se questo video è stato di vostro gradimento potete iscrivervi al canale per vedere i miei successivi caricamenti e ci si vede come sempre al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti